Io credo che i fatti parlino, noi abbiamo un profondo rispetto del lavoro delle istituzioni, in particolare delle forze dell'ordine che veramente si prodigano in maniera eccezionale. Poi restano gli episodi, perché alle vittime di questi episodi non possiamo andargli a raccontare che stiamo facendo grandi cose, che le istituzioni, sì glielo diciamo, però manca il risultato. La riduzione del 40% degli episodi che c'è stato nel mese a cavallo tra metà dicembre e metà gennaio è apprezzabile, frutto di uno sforzo particolare. La sensazione è che siano riprese adesso questi episodi e a fronte di questi noi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, perché lo scaricabarile al quale a volte assistiamo non è accettabile, nel senso che le forze dell'ordine intervengono, fanno il proprio dovere e se colgono in fragranza di reato arrestano anche gli autori. Poi vanno a Sollecciano, magari ci stanno 24 ore, la magistratura non può fare diversamente perché non sono reati per i quali è prevista o l'ergastolo o decenni di galera, quindi dopo poco sono di nuovo fuori, spesso in attesa di giudizio, qualche volta... Quindi come si fa? E quindi il problema che non è la colpa neanche della magistratura, stavo dicendo, perché la magistratura applica le leggi che ci sono, non è che si può fare, o al momento si può applicare le leggi che non ci sono. Il problema è la cultura garantista della quale noi siamo orgogliosi del nostro paese, che ha qualche falla qualche volta, perché da qualche altra parte probabilmente il risultato lo si otterrebbe con maniere un pochino più brusche. In qualcuno dei paesi di origine di coloro che commettono questi reati li tagliano le mani, se fanno qualcosa del genere. Da noi giustamente questo non avviene, abbiamo trovato il sistema perché non è pensabile che chi fa con fatica, con tante difficoltà, con tante oneri da sopportare, un lavoro gravoso, con quello che dà un servizio al pubblico, ai pubblici esercizi, ai ristoranti, ai bar, abbia poi anche lo stress tutte le mattine di alzare la sala cinesca e trovare la spaccata nella vetrina o addirittura di essere aggredito, come è capitato, da qualche malintenzionato. C'è un problema sociale di fondo, se non si risolve, il quale sarà difficile porre rimedi a questa situazione.